Cambia Viale Trieste ma cambia anche Piazzale d'Annunzio, qual è il punto della situazione oggi? Sì, sono in corso i lavori di riqualificazione di Piazzale d'Annunzio, un intervento da un punto di vista anche estetico importante che darà valore a una zona, un'area che era fondamentalmente prima un incrocio, nel quale negli ultimi anni come amministrazione abbiamo cercato di rendere sempre più attrattivo anche per sviluppare quella passeggiata che va dalla palla in direzione sud. Abbiamo realizzato questo monumento a Valentino Rossi con un casco che è sempre oggetto da parte di tanti visitatori motociclisti che vengono a fotografarsi e immortalarsi di fianco al casco. Oggi con questo intervento andiamo a fare una riqualificazione vera di quel posto con tanto verde, con la percentuale di verde che passerà dal 2% a quasi il 30%. Un intervento importante che migliora anche la percorribilità da un punto di vista dei pedoni e delle biciclette. Quindi quello che oggi è il luogo per le macchine diventerà un luogo per le persone, una piazza, un luogo anche dove si potranno realizzare eventi che andremo a concertare poi con gli albergatori e devo dire anche che tutte le attività hanno sempre dato una grande disponibilità e apprezzamento per questo bel progetto. Tutto sarà pronto per l'estate? Sì, sarà pronto per l'estate, purtroppo le condizioni meteo dei prossimi giorni non ci dicono bene e in questa fase non è sicuramente una notizia positiva. Speravamo di anticipare anche i tempi che avevamo comunicato rispetto alla riapertura della circolazione normale. Probabilmente non sarà possibile già farlo venerdì come avevamo previsto nel caso di anticiparlo ma dovremmo rispettare quelle che erano le tempistiche previste al cronoprogramma di lavori che stanno andando, come dicevo, molto bene e che in qualche modo vedranno probabilmente la prossima settimana la riapertura anche della circolazione normale poi si interverrà sugli elementi di arredo e di finitura della piazza, di pavimentazione e tutto quello che servirà. Grazie. Grazie. Grazie.